L'ultimo progetto è che anche... Essendo un quarto di lavoro... Sono molto male, ho provato a fare i dati... Questa è la scuola, questa è... ...la della polizia, insomma... ...la della polizia, insomma... ...la della polizia, insomma... ...che vengono a prendere di sera... ...la scuola, insomma... ...non disturbare la polizia... ...la cosa di dire gli ospiti... ...la di faccia l'ospiti... ...la portata... ...foi glielo dico... ...facciamo la diretta... ...devo un attimo a vissare... ...un attimo a vissare... ...abbiamo una lista di tutto... ...le che ci scrivono o chiamano... ...e invece... ...l'ultimo progetto... ...è il presidente... ...quì bisogna mettere... ...così criticando a lui... ...è avere capito a qualche... ...verdad... ...e invece...